I ladri proseguono senza sosta nella loro attività illecita con furti in abitazioni e attività industriali. Alla 360 gradi arredamenti di Bellocchi di Fano è la terza volta in quattro mesi che i malintenzionati entrano negli uffici o nel capannone dell'azienda. È successo anche ieri sera, intorno alle 22.30, orario in cui è partito l'allarme alla centrale operativa della Vigilar. La pattuglia più vicina, dopo pochi minuti, è giunta sul posto ed ha subito notato una porta aperta con chiari segni di scasso, ma all'interno dello stabile non c'era più nessuno. Evidentemente i ladri sono stati disturbati dal sistema di sicurezza e dal pronto intervento della vigilanza privata. Avvisato anche il titolare, dopo un controllo, ha capito che non era stato portato via nulla o quasi. Che cosa hanno rubato? Allora, a un momento, ieri sera, non ci siamo accorti di niente. Stamattina mi sono mancati due trappanini nuovi che sono arrivati l'altro giorno. E poi è scattato l'allarme? È scattato l'allarme, ieri sera, come hanno sforzato, è scattato l'allarme. A quel punto è arrivata la vigilia? A quel 10 minuti è arrivata qui la guardia giulata e poi dopo mi sono fermato fino a stamattina alle quattro. Era tutto sforzato, tutto aperto, quindi sono dovuto rimanere qui. Quindi in capannone era passata una persona sospetta? Tre giorni fa, cioè venerdì, venerdì sì, è passato un moldavo a chiedere lavoro. È entrato perché ho trovato il cancello aperto, che non l'ho di solito sempre chiuso, invece è entrato con la bicicletta e guardavo in giro. L'altra, ieri sera abbiamo avuto il furto, però ho avuto un altro precedente perché c'è una telecamerina che è piazzata nella strada, che mi ha registrato una persona anche il 18 di dicembre. Secondo lei che cosa cercavano? Ma secondo me volevano portare via il cancello, secondo me. Ha denunciato regolarmente? Sì, sì, il carabinieri è già fatto, tutto quanto. Ha consegnato anche le immagini? Sì, sono immagini notturne, la qualità è bassa. Poteva andare peggio? Poteva andare peggio, sì. Grazie. Grazie.